Se muoio mi dispiace solo che perdo il silenziatore più costoso del mondo Eh vabbè Perché sai l'arma la posso ricomprare troppo facilmente Oddio questa è una merdata di filetto Sto attirato E uno l'ho fatto Sto attirato Le missioni in video No no sta proprio giocando Normal Il problema è che c'è un cecchino bastardo Che mi sta sparando dall'altra parte della mappa Quindi non posso andarmi a lottare il mio cadavere con tutta la calma che voglio Oh te è ancora vivo Eh dai Eccoli il cecchino Ah che palle così Ah che c'è no dai mi provo la montagnola di merda si è andata a infilare eeeh baffanculo ah 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 ma questa ragazza si è infilata ah l'ho fatto buono mi pane sei te? eh questo al muro si te dove sei? no nel ferro sei te nel ferro no? ok ho sentito qualcuno nel ferro quello dei silos scusa te dove sei? sono ancora qua binari l'ho detto l'ho visto? è al salto no 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 la visiera non mi ha salvato è ancora lì è ancora lì è ancora lì è dalla grave è ancora il mp5 non lo ho neanchitato no 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 guardate che fai mi faccio una machine run veloce veloce intercange andiamo a fare spesa lì per copp dai che l'ho visto allora te dove sei esattamente? sono dove c'è il coso con la capannina ok allora binari no è con la porticina allora immagini che ti dai uno l'ho fatto aspetta eh anche se mi sento morto cosa avevo alla fine? mpx ok guarda era un mp5 mpx silenziato o qualcosa del genere fagotto il primo hit è bello che mi ha salvato proprio Kiver ok ok ho ucciso uno ultra bardato lel Cioè, ce l'avevo di fronte Lui non so come mi sentiva a destra Si è girato a destra e si è fregato da solo Senti qua, ieri abbiamo Luttato un MPX Ciao Allora, come ottica L'HS41 5G Il calcio Vuoi sentire? Quello dell'RSAS Cosa? Che succede? Il secondo che ho ucciso, che sarebbe quello bardato che aveva Jen Fast L'M4, quella che compri con i Bitcoin Ok Cioè, però quella tipo gialla, raddorata e cose Sì, ho capito Aveva l'Alpha Rig Ok E si chiama Cotton Livello 5 Ma... 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 Ma